Ce la facciamo a finirlo prima di Diamante e Perla? Io non credo. Senti anche che musichetta suggestiva. Vuoi sapere perché stia continuando a seguirti? Sono uno spettro che ti sta perseguitando. Ovviamente scherzo, ma certo. Burlone ti prendere a calci sui denti. Tuttavia, è proprio tipo spettro il protagonista indiscusso di questa palestra. Entrare qui è come finire in galera. Devi risolvere una serie di enigmi per evadere e sfidare il capo palestra situato laggiù. Va bene, non è facile come sembra e devi... Ma, ma, sinceramente non saprei. Ma scusami. Allora aspetta, che sono furbo. Ah no, mi teletrasporta proprio sempre giù. Buongiorno. Due passi avanti, due a destra, cinque verso l'alto e infine tre a sinistra. Due passi avanti, due a destra, ok? Allora... Uno, due... Uno, due... Uno, due, tre... Non è proprio così, credo, eh? È bisogno di un pass per aprire la cella. Un portone spesso... Ehm... Salve! Due passi avanti, uno a destra, due passi avanti, uno a sinistra. Dritto verso l'alto. Entrando da qui. Wow... Ma che è? Una camera oscura. Va bene. Ma sono... Dritto! Chi è? Serafina! Charles Fire! Ma che è sta roba? Rod Aruca! Aundum! Isabel Nostenferr? Ma che nomi sono? Negargmur! Forti questi nomi, però... E come mi aiutano nella mia missione? Attenzione! C'è un cunicolo segreto, l'avrà scavato un prigioniero? Vediamo. A chi appartiene i Pokémon Aundum? No! Non è... Non è lui! Ah, scusami! Se non è lui, sarà Rod Aruca. Pass Purgatorio 1. Perfetto. Torniamo sopra, allora. E... Di qua non c'è altro... Gem... E qua sono... Beh, a parte la camera oscura è proprio rossa, rossa, quindi... Ma quindi questi sono detenuti che... Si trattano le foto, cosa... Ai, 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 ai... Ma... What? Inserisci la parola chiave. A... R... No. A forza di trial and error. Am... E... No. A... Ma... R... A... N... T... O... P... O... L... I... Ad Amar ho capito dopo, no? Amar ho capito... Amar ho capito... Le lettere di... La casa di Will, ok. Ci sta, ci sta. Ma poi era scritto lì so... Perché sono scemo? Vabbò... Andiamo avanti. Ok. Ah, però è interessante, eh. Oh cavoli. Allora... Allora... Due passi avanti... No. Due passi avanti... Uno a destra... Uno... Due... Tre... Faccio le foto... Così almeno mi ricordo... Uno... Due... Quindi... Uno a destra... Uno... Due... Uno a sinistra... E poi... Dritto verso l'alto... Perfetto... Quindi questo era... Questo qui... Allora è... Uno... Due... Uno... Due... Tre... Uno... Due... Uno... Due... Così... Uno... Due... Tre... E dritto verso l'alto... Ok... Chi è questo? Dunque... Due passi avanti... Due a destra... No... Qui andrei verso... Quindi qua dritto... Ok... Allora... A questo punto... Due avanti... Due a destra... Uno... Due... Tre... Quattro... Cinque... Uno... Due... Tre... Perfetto... E questa è fatta... Abbiamo un litwick... Sembra che questo litwick abbia qualcosa per te... Pass... Rugatorio 3... Uh... E qui infatti non ha fatto l'animazione... Bene... L'ultima... Uh... Right... Ah... Le gemme ora... No... Non erano le gemme... Oh... Oh... Salve... Cursante... Non succede nulla... Non... Questi non posso premerli... Sono altri glitch che non dovrebbero esistere... Ah... Che strano soggetto... Per un'opera d'arte... Non succede nulla premendo il pulsante... Alla libreria? Questo libro nasconde un pulsante... Premiamolo... Non è questo il pulsante da premere... Passo a destra... Due... Quattro verso il basso... Tra sinistra e infine dritto verso il basso... Ah... Ma c'era... Era qua dentro era... Scusami... Era... C'era il passo qui dentro... Vabbè... Io vado eh... Vuoi utilizzare il passo? Sì... Ma era la cassaforte? Ma che significa? C'era la cassaforte lì in bella vista... Boh... Andiamo comunque eh... Non me lo faccio... Oh... Mocciosetto... Ma dai... Lascia che ti ringrazi... Ci hai fornito l'occasione propizia per fuggire di qui e seminare ancora una volta il panico in città... Ma sono loro! Ah no... Non sono loro... Adios amico... Ma mi hanno dato un pugno... Che guaio... Ragazzo tutto bene? Quei desperato sanno approfittato del tuo sfido in palestra per attuare il loro piano di evasione... Sarà una seccatura per lo sceriffo andarli a catturare... Tocca a me vero? Andare a recuperare quei farabutti potrebbe essere un ottimo allenamento non credi? Allora... Sono una droncola da quattro soldi... Allora... So dove sono... Sai chi è che mi dice dove sono? Nella camera oscura ci dice dove sono i marfattori... A quanto parlo? Ah eccoli va... Buongiorno... C'è beccati maledetto! Ok... Combattiamo... Ma ti faccio sentire io com'è... Un vero allenatore! 2 gale 8... Fanghiglia non colpisce anche il tuo amico... Colpisce solo gli avversari... A differenza di surf... Il che... Non ha senso ma va bene... Ce lo facciamo andare bene... Il fatto che sia una lotta in doppio comunque mi risparmia un sacco di tempo... Ma eccole... Ma dai... No... No... Non posso... No no no... Non faccio la battuta no... No... Bene... Ora fammi entrare... Le consiglio nel piano delle forze... Va bene sì... Ho già curato i miei Pokémon... Tranquillo caro... Ti ringrazio per il consiglio... Allora... Com'è andata con il ricopro dei fuggiaschi? Pensavi che ne fossi all'oscuro? Io sarò corrente di tutto ciò che avviene in questo penitenziario... Incluso la fuga di quei desperados... A dire il vero sono stati a permettere che tutto ciò accadesse... Così da poterti mettere alla prova... Spirito d'osservazione... Coraggio e voglia di mettersi in gioco... Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono un allenatore più di ogni altra cosa... Devo dire che non hai tradito le mie aspettative... Starei pensando quanto sia stato il responsabile... A lasciare dei malviventi ai piedi liberi... Vero? Non ti lo torto... Ma poi dormire sono tranquilli... Se avessi fallito... La città non avrebbe corso rischi... Certo... Sarei dovuto intervenire io... Ma mi hai risparmiato la seccatura e te ne sono grato... Inoltre con il tuo intervento... È dato modo al mio estero di esplodere come un fiume in piena... Ma ora bando alle ciance... La tua spira è stata interrotta in media stress... Ed è tempo che si concluda con un gran finale... La lotta col capo palestra... Perdona lo sgarbo... Non mi sono ancora presentato... Ebbene sì... Io sono Crisante... Sceriffo e capo palestra della Conte di Scorpiopoli... Orsu... Preparate ad affrontare i miei tenebrosi Pokémon di tipo Spettro... Era ora eh... Grazie del monologo... Era... Un dialogo lungo quanto una canzone... Allora caro... Ti facciamo un flusso draghello... Tanto per cominciare... Draghello... Bello... Pischello... Sorello... Non fa più rima... Brutto colpo... Beh ragazzi altri due e finiamolo... No altri... Facciamo cinque a sto punto... Brutto colpo però... Ah ok... Non serviva... Un quinto brutto colpo... Un secondo brutto colpo voglio dire... Bene bene... Tianlong proprio... Mamma mia... Cactiarn... Oh... Vabbè... C'abbiamo il Pokémon adatto... Ma Pokémon Spettro... Xenoverse? No... Di già? È un Pokémon Xenoverse... Ma non di quelli pericolosi... Andiamo con il lava sbuffo... Bello... Però è sempre erba... Pallaombra... Beh è speciale... Ma cavolo se fa male... La difesa... Beh... Siamo più veloci comunque... Anche Locura... Non mi interessa... Ma va bene... Non importa... Perde comunque il turno... Immaginate se in Pokémon... Ci si poteva curare... Ed attaccare comunque... Nello stesso turno... Che roba che sarebbe stato... Palossand... Ok... È un po' piuttosto starello... Palossand... Dato che userai una mossa terra... Ti mando Harrock... Che comunque... Posso usare mossa di tipo volante... Per farlo fuori... Per farlo fuori... Poverino... Pallaombra... Spettro... Non terra... Quindi... Perché va con... Con una mossa spettro... Sì è da stab... Ma anche terra sarebbe stata stab... Oh... Ma... È morto... Eh... Già... Mezzo PS... Neanche uno... Mezzo proprio... Cavoli... Scarfasmo... Ah... Certo... Oddio... Spettro tuffo contro uno spettro... Non è che ha molto senso... Però Phantom... L'ho lasciato così al livello 29... Non l'ho più allenato... Poverino... Ah sì... Quello... Frankenstein... Sono veloce però eh... Accidenti... Perché spettro tuffo... Spettro tuffo non è che si nasconde sempre prima... Ma... Eh... Vedo diversi Pokémon poi su di lui comunque... Interessante il concetto... Non è semplicemente Frankenstein con dei pezzi a caso che poi prendono il suo colorito... Molto bello... Tipo... Tipo... Tipo zero... Tipo... Tipo zero... Dunque spettro... Nulla sil proprio devo allenarla assolutamente... Eh... Mandiamo un po' Harrock... Sarà spettro... Sarà... No... Gli ha cascato il braccio... Bello... Bellissimo... Dicevo... È giusto che sia... Che abbia Sorbivolt... Ragazzi... Che figata sto Pokémon... Allora... Mandiamo un po' Tie Along... Cavoli... Tostarello... Bello... Dragartigli... Che gli fa... Un drag... Cavolo... Nulla... Ragazzi... È tosto eh... Dragospiro potrebbe paralizzarlo... Vabbè... Fulmini mi fa un danno normale perché sono Drago... Plus Drago... 5 hit KO... Una... Due... Sì ce ne voglio un 5 almeno... No... Forse 4... Brutto... No niente brutto colpo... 3 allora... Ma ha fatto dei roll altissimi alla fine... Il primo era... Basso basso proprio... Capturne... Rimandiamo il fedelissimo Endevar... Quello che ad oggi è il number one hero... Capturne è l'ultimo... Fuocopugno... Per finirlo... Buono... Andata... Ragazzi... Sfida... Interessante... Seppur... Facile... Mi è piaciuta... Davvero carina come sfida... Interessante colpo di scena... Bene bene... Sono contento... Medaglia di esolazione... Delle abilità davvero eccesso e giovane... Saresti un ottimo protagonista di romanzi sai... I miei più sentiti ringraziamenti per le emozioni che mi ha fatto provare con questa lotta serrata... Senza dubbio la tramuterà in fonte di ispirazione per i miei prossimi racconti... I capi palestra... Sono tutti quanti annoiati perché hanno raggiunto una posizione alta... Nella scala gerarchica del mondo Pokémon... E quindi... Quando vengono sconfitti capiscono di essere delle nullità... Da un bambino poi vengono sconfitti quindi... Non ci ho mai pensato bene... Però sono contenti quando vengono sconfitti... È giusto... In quanto capo palestra della Contea ti conferisco l'emblema del mio status di sceriffo... Mi è proprio la stella? Vediamo un po'... Sì! L'emblema... Carina! Le stelle hanno sempre avuto un'enorme importanza nella storia della nostra regione... Di cui sono il simbolo... Esse con il loro antico lume rendono chiare e limpide anche le notti più buie... Ma è pur vero che... Più intensamente brilla la luce... Più l'ombra che produce è fitta e oscura... Per cui... Più il tuo coraggio farà ardere gli animi dei tuoi Pokémon... Più quest'embe ti sarà efficace... Consideralo un regalo... Cioè... Palla ombra... Eh... Eh... Buona... Dico... Non capisco perché tutta quella... Quella... Trafila... Le briglie al lato oscuro che ognuno di noi cova nell'inconscio... Fanno un buon uso... Mi raccomando... Hai davvero scosso il mio animo dalle fondamenta... Perdonami... Ma ora devo abbandonarmi alla poetica... Che le stelle illuminano il sentiero su cui rivolgerete passi Link... Oh... Vabbè... Eh... Come ti pare eh? Allora ragazzi... Allora ragazzi... Possiamo proseguire per di qua... Devo curarmi prima no? Oh ma... Oh... Uh... Attenzione... Andiamo anche un pochino avanti con la storia ragazzi... Ah ma c'è Tamara... Allora i preparativi sono terminati? Sì signora... Molto bene... Recruita... Tu sta qui e ti d'occhio il capotreno... Anche se legato come un salame non credo possa andare molto lontano... Agli ordini colonnello... Tutto per c'è nei secondi piani... Col Quasar Express... Nessun vostro festa... Sarà metterci i bastoni tra le ruote... Tranne io e il vostro festa... E Andrea Link... Ah 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 ah... Raggiungeremo il tempio... Bene... Pianta di agitarti vecchio... Ormai è il tuo treno di proprietà del Team Dimension... Aiuto... No... Lui... È lui... Ah ah... Che bello... Allora allora... Aspetta 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 aspetta... Ragazzi... Qui sono passati... Tipo tantissimi anni... Dagli eventi che noi conosciamo su Pokémon... Quello... Era uno dei macchinisti del treno di Anova... O... Unima scusatemi... Purtroppo leggo solo post inglesi... Quindi... Mi è entrato nel cervello Anova... Unima... E... Sì... Sicuramente li avete affrontati se avete giocato bianco e nero... Per forza li avete affrontati... Non ci si può esimere da una sfida con loro due... Bene bene bene... Ragazzi... Nel prossimo episodio allora... Direi che affronteremo proprio le reclute del Team Dimension... Un attimino esploro... Per vedere bene tutto cosa c'è... Vorrei un attimino vedere qui se si può fare qualcosa... Ma le reclute bloccano il passaggio... Quindi... Bisognerà ritornarci... Cioè ragazzi... Quella neanche era girata... Zotica... E ci credo... Davvero adesso basta... Perché sennò qua non finisco più... Non finisco... Bene ragazzi... Adesso davvero finisco... Vi saluto... Vi ringrazio per aver seguito il video... Ovviamente in descrizione trovate sempre il link per Instagram... Vi invito ad iscrivervi al canale... Nel caso ancora non foste iscritti... E noi ci vediamo ovviamente come sempre al prossimo video... Bye bye...